L'autismo è un disturbo del neurosviluppo e colpisce un bambino sul centro Con terapie adeguate nei primi anni di vita il futuro di un bambino affetto da autismo e dalla sua famiglia può migliorare moltissimo Anxanovara da più di dieci anni sostiene questi bambini e le loro famiglie Il Novara Calcio ha già fatto il suo primo gol Anxanovara da più di la sua famiglia Anxanovara da più di la sua famiglia Grazie a tutti.